Il consumatore è un consumatore che certamente ha evoluto nella posizione perché da estremamente periferico rispetto ai sistemi energetici è entrato sempre di più in maniera importante richiedendo servizi e in qualche maniera richiedendo qualità. Questo lo può fare attraverso una tecnologia abilitante che è digitale che sta diventando una tecnologia che è in grado anche di aggregare molti dei servizi che il consumatore vede. Da questo punto di vista la consapevolezza quindi è una consapevolezza anche dell'origine e del destino dei propri dati e delle proprie informazioni. Questo chiama in campo una regolazione che è capace di intercettare gli elementi propri del settore, quindi del settore energetico ma che si responsabilizza e che riesce a apprezzare anche le nuove sfide in qualche maniera che vengono poste da questa dimensione dei dati e quindi c'è un problema evidentemente di antitrust e c'è un problema di rispetto appunto della gestione dei dati. Questo è un elemento credo fondamentale di quella che sarà l'evoluzione del comportamento del consumatore nel sistema energetico.